Ciao a tutti ragazzi, io sono Tasei e benvenuti in questo nuovo episodio di Ulissecraft Allora, oggi sistemeremo tutto l'impianto finale per quanto riguarda la nostra produzione di charcoal Infatti lo renderemo completamente efficiente e, oltre a questo, sarà completamente automatizzato con i nostri logistic pipe Quindi questo dobbiamo farci... un paio di cosette dobbiamo farci in effetti Dobbiamo prima di tutto sistemare un paio di oggetti tra cui levare questi transfer pipe che non ci interessano perché essenzialmente non sono necessari per il momento Quindi leviamo questi ultimi qua, perfetto, e anche qui sotto, ok Qui dovrebbe esserci energia e dovrebbero esserci anche blocchi di coal, solo che gli apple non sono usciti di qui L'apple non sono usciti, è colpa di qualcuno, va bene, lo sapremo presto di chi è colpa Però per il momento andiamo così, ok Allora abbiamo questi pezzi e dobbiamo un attimo passare anche di qua Ok Perfetto, allora, dobbiamo fare in modo che di qui la roba esca Ora qui, come sta messo? È messo molto bene, non da nessun problema Anzi, siamo messi davvero molto molto bene, fertilize arriva Arriva tutto senza problemi e soltanto adesso deve uscire da qualche parte roba Quindi dobbiamo in qualche modo far uscire di qui la roba E l'idea migliore sarebbe sostanzialmente fare dei pipe Ora non so Potremmo fare tanti tipi di pipe, sinceramente Per poter far uscire la roba di qua L'idea migliore sarebbe sistemarli in vari modi Allora, prima di tutto, facciamo così Leviamo questa roba e leviamo quest'altra E dobbiamo un attimo fare un paio di cose Allora, prima di tutto, vediamo un po' quanti logistic pipe abbiamo Vediamo, siamo costretti a dover farci questi altri pipe Che comunque sprecano un bel po' di roba Oppure possiamo fare supplier, system destination Logistic, besync, inventory system connector Ci sono un paio di questi qua che sono differenti e strani E io proverei a fare in questo modo, sapete Facciamo così Allora, qui come va con il nostro Ha fatto la grafite, però non c'era niente Allora, cosa dobbiamo farci? Dobbiamo sistemare un attimo Un paio di queste piccole cose Per farlo abbiamo bisogno di un attimo di una cesta Perché dobbiamo lasciare la roba che abbiamo adesso Nel nostro inventario da qualche parte Che è la roba, diciamo, non importante Allora, chiudiamo il nostro piccolo coso Perfetto Allora, lasciamo questi pezzi di ferro Questo qua e abbiamo un po' di roba Allora, dobbiamo farci Principalmente un paio di questi logistic Quindi facciamo un paio di ferro Ok Facciamo questi chasse mk2 che sono più che sufficienti Sicuramente per il momento E si fanno in questo modo Ok Quattro Perfetto E, eh, ok Otto di questi Ci serviranno adesso Dei polymorphic Che possiamo in teoria fare Se troviamo un paio di cosette Tra cui Dei fiori gialli E, eh Questo è un bel problema sinceramente Perché non abbiamo dei fiori gialli Ero, eh Ha dei fiori gialli E dei fiori rossi Che, eh Potremmo comunque trovare facilmente E possiamo trovare tranquillamente Di mattina Perché la notte è bruttissima E, eh Oltre a questo Se serviranno un po' di lapislazze Di quelli ce l'abbiamo Quindi tranquilli Allora Facciamo così Io mi fermo adesso Vado un attimo A uccidere quel creeper Porca vacca Perché la gente esce di lì Dov'è una chest? Aaaaa Porca vacca Allora Se serviranno un paio di questi Allora Perché io odio la gente Aspetta il barrel Dov'è il barrel? Dove l'ho preso? Deve essere una chest qua vicino Sì Chest Allora Prendiamo una chest qua Ah, qua c'era tantissima roba C'era Uffa Ok Allora Aspetta un secondo Che levo un attimo Questa roba Mi servirà Mi servirà Mi servirà Quelle logistic pipe Eh Non so perché Tipo la gente Spona a caso Qui Cioè dovrebbero esserci Nelle torce Un po' ovunque E non dovrebbero Sponare Sti mostriciattoli Schifosi Da dove sono sponati? Di qua probabilmente Stronzi Qua c'è energia Più o meno E Dobbiamo un attimo Troare un modo Di non far esplodere I nostri piccoli creeper Perché è un problema Molto Molto grave E dobbiamo risolvere Quest'ultimo In qualche modo Eh per il momento Allora per il momento Lasciamo stare Prima un attimo Il nostro chisel Ok E ci facciamo Succenti questi Qua Quali erano questi? Ok E Però adesso Ci accontentiamo Di fare in questo modo Allora un attimo Di usare un paio di cosette Ma non sarà Un gran problema Ora spero di non aver perso Nulla Lo spero vivamente Perché se no In caso contrario Sarei molto incazzato Allora Ho trovato un paio Di pezzettini Di Fiori Colorati E arrivo fra 20 minuti Più o meno Sì 20 minuti Arrivo subito ragazzi Per voi subito Ok ragazzi Rieccomi Ho trovato un paio di fiori E sono anche vicini Quindi tipo Oh che figata Infatti li ho già presi tutti Oddio Sto cadendo adesso Allora Prendiamo un attimo Questi poppy Facciamo questi Cosi Venomeno Dandelion E in questo modo Dovremmo avere Più o meno 6 di questi Che dovrebbero essere Più o meno sufficienti Diciamo più o meno Perché Capita spesso che Ce ne siano altri Ci verrà una dolly Ci servirà E Ci servirebbe Magari Cosa è questa cosa L'Enchanted Book Oddio Cos'è questo Enchanted Book Così figo Dove l'ho preso Questo Enchanted Book Non ho niente Però è figo Serviranno questi Black Module Perfetto E Nient'altro Diciamo Abbiamo tutto ciò Che ci serve Penso di sì Allora Dobbiamo un attimo Farci Dei Logistic Questi qui Questi no Passive Ma i Sono I nostri Polimorphic Che si fanno col ferro Quindi prendiamo un po' di ferro Vediamo un po' se abbiamo Un po' di roba qua Non penso Ci facciamo in questo modo Un paio di questi 3 dovrebbero essere Più che sufficienti Per il momento 3 3 Ok così Adesso mi serve Ok 1 2 3 Perfetto E poi serviranno Anche dei Provider 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 Che sono Qua Che si fanno con questi Doro che abbiamo Quindi andiamo qua E arrivo subito Ok Allora abbiamo fatto Gli ultimi preparativi Infatti vedete abbiamo 3 3 E Beh Tore abbiamo 8 Ma che se ne frega Adesso ci contendiamo Di questi 3 Tanto ci servono Soltanto Adesso ci servono Allora Dobbiamo farci un attimo Una cosa Bene Questa dolly Prendere Alcune di questi Spostarli Ah no Questi per esempio Potrei lasciarli Perché questi 3 Sono quelli che ci servono Questi qua Sono in più E li andiamo a mettere qua Qua Andiamo a posizionarli Un attimo Qua vicino Che non ci servono Per il momento Ehm Mettiamo lì qui sopra E qui sopra Perfetto Ok Allora dobbiamo Un attimo Ah si sembra anche questo In effetti Vabbè questo Lo servono adesso Allora Cosa dobbiamo farci Dobbiamo fare Questi provider Li leviamo 1 2 Basic Basic Provider Provider E provider Ok Allora ci andiamo a mettere Questi qui Questi name Questi logistic chassis MK2 Qui Qua possiamo anche levare questo Mettiamo un altro chassis qua Perfetto E dobbiamo un attimo Sistavare queste robe E dobbiamo farcelo Polymorphic Di qua Ok Polymorphic E provider Ok Quindi tutta roba Andrà qui dentro Quella Per quanto riguarda Lo could Ed è giusto Stessa cosa va qua Quindi provider E polymorphic E questa In questo caso È Nostri Ehm Diciamo Così charcoal Perfetto E qui vanno Per esempio Le mele Perché I sapling Per il momento Possono anche Possono anche rimanere lì Allora poi Dobbiamo un attimo Collegare tutto In teoria dovrebbe essere Già tutto collegato E anzi Sinceramente La cosa migliore da fare Sarebbe pure Levare sta cosa Tanto non ci serve Che faccia tutto Sto giro enorme Basta fare così Ok Ai lati Sempre meglio mettere Un logistic Che ci da sempre Delle varie opzioni Giuste Per poter andare avanti Di qua Dobbiamo far escire la roba E L'idea migliore sarebbe Di farla andare qui Quindi Io quasi quasi Fare in questo modo Ehm Dov'è di qua Allora Facciamo così Facciamo Due E tre Qua ci va Un pipe di legno Un pipe di legno Con un motore Le mele Le mettiamo un attimo Qua giusto Sì Allora si vira Giusto un pipe di legno Tranquillo tranquillo Dove deve uscire la roba E In teoria Dovremmo averlo Ehm Penso di qua Vediamo un po' Sì ce l'abbiamo Ok Non abbiamo un motore No ce l'abbiamo Abbiamo una leva Mettiamo una leva Non dobbiamo sistemare Questi barrel Adesso tranquilli Dobbiamo essere lì Solamente perché Erano ingombranti Di sopra Ok Allora Mettiamoci questo Mettiamoci Questo di qua Ah ma esce comunque La roba Ah è giusto È vero Esce comunque Senza questo motore Quindi la cosa migliore Sarebbe Metterci questa roba Qua E fare in questo modo Ora dovrebbe uscire la roba Perfetto Ok In teoria Adesso queste mene Che stanno uscendo Vedete Devono entrare qui dentro E poi Appertate lì Dove c'è logistic Dove c'è logistic Ok E andare dove sono richieste Ora Magari troverò un punto In cui posso prendere Quel pipe L'ho preso Penso di sì Ok Dovrebbe andare nel punto Dove sono richieste Ovvero il nostro barrel Qua 58 59 Perfetto Vedete che arrivano tranquillamente Ottimo E arrivano pian piano A riempirsi Ora possiamo anche Prendere queste E mettere direttamente Di dentro E vado un attimo A rispondere nel mentre Quindi arrivo subitissimo Ok Sperando non arrivano Altre introduzioni Per il momento Dovrevo aver finito Ora abbiamo solo Un problema Molto molto grave Relato al fatto che Abbiamo Passo un paio di sapling Ho sbaglio Probabilmente tipo L'avrà fatti Tornare qua No Però comunque Le mene Stanno arrivando L'unico problema adesso E la sand Dove va a finire la sand Eh Questo è un problema Molto molto Interessante E dobbiamo un attimo Risolverlo in qualche modo Dove va a finire la sand E boh Eh Non so adesso Se abbiamo dei piccoli Cosi giù Per quanto riguarda la sand Io ricordo di no Però Può darsi Che ci sia Vediamo un po' Sand 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 Non penso che c'è la sand Infatti Come pensavo non c'è Eh Leverei un attimo questo Tutta questa legna Che tanto comunque va cotta E le metterei Dentro Ah Merda Dovrei metterla a qualche parte Eh Le metterei Sopra un attimo E prenderei della sand E la metterei giù Così almeno la sand Arriva giù Tranquillamente Possiamo comunque Eh Tranquillamente Eh Controllando a noi Senza tanti problemi Quindi Allora adesso cosa facciamo Un attimo che Bocchiamo questo processo qua Ok Allora La sand Va a finire Da qualche parte Io volevo comunque capire Dove va a finire Sicuramente Perché La cosa mi stupisce E non Saprei bene Dove finisce E Portiamola giù Per il momento Allora Prima di tutto facciamo così Prendiamo un attimo Questo qua Dolly Perfetto Scendiamo giù Andiamo a metterlo Al posto del Del nostro Bellissimo E fantastico Coso Come si chiama Legno Al fine legno Ok E Ora Sarà un bel problema Posizionare Sta roba qua Ok Ops E Allora facciamo così Aggiustando un attimo Levare questo Levare un paio di questi Mmm Attate che è un po' Problematico Come cosa Allora Dobbiamo un attimo Sistemare un paio di oggetti E Allora Andiamo qua Andiamo Mettiamoci questi pipe Questi Quest'altra roba È perfetto Allora Leviamo questo qua Ci mettiamo La nostra bella sand Ottimo Prendiamo tutta la sand Possibile e immaginabile E l'andiamo a mettere Qui dentro Ok Perfetto Adesso la sand Sa dove andare Adesso ci mettiamo La nostra Questa roba Almeno possiamo Trasportarla tranquillamente E per il momento Dovrebbe essere Tutto normale Ora riesco a vedere La sand Riesco a vedere Quanto Sapling abbiamo E nient'altro Non dovrebbe essere Tanti altri problemi Sicuramente Possiamo Craftarci questi E beh Questo è normale E nient'altro Sicuramente Ma mi sembra strano Che Io posso vedere Anche su Cioè Su Ok Ok C'ho 16k di charcoal Dovrei vedere Anche L'apple E ok Si non riusciamo a vedere Per esempio I sapling Perché al momento Non abbiamo ancora inserito Niente lì Allora cosa farò Mentre sono in off camera Ando a fare Gli ultimi oggettini Mettendo gli ultimi Barrel qua vicino Per Quanto riguarda Gli ultimi oggetti Che sono A fine Questi Diciamo Oak Sapling Che sono quelli Poi a fine Che dovrò mettere Quindi Mancherà giusto Quella roba Però Ci vorranno Davvero poco Per farlo Quindi tranquilli Qua lo facciamo Magari in off camera Che Non è Problematico Allora Qui abbiamo Comunque abbastanza roba Dobbiamo Semplicemente adesso Rimettere I nostri pipe Ah cavolo Gli ho rotti Quanti ne ho rotti Uno solamente Eh Merda Dovranno andare a ricoprare I pipe che abbiamo rotto Che in te In te Potrebbero andare Anche questi A vero Questi provider Non ci interessano Metterli Fate che ne va a prenderli C'è un creeper Odioso Creeper E ho un'idea Per poterlo fare Despunare Quel creeper Solo che mi servirà Un po' di tempo Giusto un po' di robacce Però penso Che lavoreremo Nei prossimi episodi Allora presto Ricopriamo un attimo Questi pipe Dove li ho messi Vabbè Questi pipe vanno bene Qualsia Cioè No Questi iron No Vanno bene Gli altri Vanno bene Magari Dove li ho messi Eh Li ho messi qua Antoria Eccoli qua Stone pipe Ok Andiamo a piazzare Un attimo Di lì E nient'altro Ragazzi Per adesso Ci faremo qui Nel prossimo episodio Vedremo di lavorare Magari su macchina Sempre su logistic pipe Perché io voglio finire Questa Parte di mod Prima di poter passare Alla A parti più importanti Però Oltre a questo Devo fare Anche un paio di cosette Per quanto riguarda Diciamo I nostri Smelting di minerali Perché quelli ormai Quelli vengono fatti manualmente A un momento Io non è una bella cosa State nei cerchi Perché Non è facilissimo Ora comunque La sand dovrebbe scendere giù Non dovrebbe avessi problemi Cos'altro non mi fa scendere Beh l'apple Ok Questa mi fa scendere normalmente Eh Gli ox sapling Eh Questo è un problema Questi non sanno dove andare Quindi vabbè Lo farò adesso Prima di chiudere Per adesso vi saluto Ci vediamo nel prossimo episodio In cui avremo tutto sistemato Tranquillamente E non dovrebbe esserci Tanti problemi Per adesso vi saluto Ci vediamo nel prossimo video E ciao ciao ragazzi Ah Penso che migliorerò Questo qui Andando avanti Quindi migliorerò Questo D'inferro Rendendolo in oro Per adesso vi saluto Ci vediamo nel prossimo episodio E ciao ciao ragazzi